Ciao, io sono Samir e mi sono rivolto qui allo studio Microdent per venire a trattare una situazione che da un po' di anni mi accompagnava, ovvero mi ritrovavo con la necessità di dover allineare i miei denti per il mio sorriso. Tante volte negli anni mi sono stati proposti vari tipi di impianti, di apparecchi di vario genere, tuttavia non ho mai intrapreso nulla. Circa sei mesi fa sono entrato in contatto con la struttura Microdent, visto che conoscevo già il dottor Story, e ho iniziato il trattamento di allineatori invisibili in design. In 200 giorni, quindi esatto, in realtà in poco più di metà anno credo di aver raggiunto un ottimo risultato, mi trovo sicuramente con un sorriso migliore, la struttura è estremamente accogliente, estremamente performante, sicuramente qualsiasi altro mio intervento futuro lo farò qui senz'altro.